Noi abbiamo fatto tutte le verifiche che il Ministero ci ha chiesto di fare, tra l'altro ci ha chiesto di farle non con le norme e i calcoli dell'epoca del progetto, parliamo del 1960, ma di riverificare tutto con i carichi e le norme recenti che sono del 2018 mi sembra. Cosa che abbiamo rifatto, abbiamo consegnato il tutto all'ufficio ispettivo perché così c'era stato detto di fare e da lì è risultato che tutti i coefficienti, tranne in 4 o 5 casi, sono superiori all'unità. La legge dice che se il coefficiente è superiore all'unità la struttura è sicura, se è inferiore all'unità devi capire perché è inferiore e se è il caso prendere delle decisioni di parzializzazione del traffico, sicuramente non di chiusura, non siamo assolutamente in questo caso. Cosa che noi abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto in tempi non sospetti perché l'abbiamo fatto mi pare a giugno del 2017, ci siamo accorti che c'erano delle cose che non andavano e abbiamo ridotto la carreggiata della corsia autostradale e sono tuttora in atto queste cose perché non abbiamo ancora messo a posto quello che dobbiamo mettere a posto. Noi garantiamo assolutamente la sicurezza al 100% sull'autostrada in condizioni normali di esercizio. Se io mi accorgo che c'è un problema, io come concessionario devo prendere tutti i provvedimenti adatti per garantire la sicurezza dell'utenza, quindi se io mi accorgessi che il viadotto sta per crollare, devo chiudere il viadotto. Aspetta a me, se io non ho questa convinzione, perché questa è una responsabilità personale che poi si traduce anche in un fatto penale perché ti possono accusare di interruzione di pubblico servizio. Io non la chiudo l'autostrada. Se invece il ministro, perché ha le sue convinzioni, dice che l'autostrada è pericolosa, io chiedo al ministro di dirmi di chiudere l'autostrada. È chiaro che se il ministro mi dice di chiudere l'autostrada, io ci rifletto un attimo e poi probabilmente lo faccio perché se me lo chiede il ministro ritengo che abbia gli elementi da poter confutare le mie convinzioni.